Un anno fa la legge sul cosiddetto dopo di noi, ovvero finalizzata a disciplinare l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare. Una novità che richiede ora la piena attuazione sul territorio e di cui si è parlato alla Roccaflea di Gualdo Tadino in un convegno promosso dal comune che ha visto la presenza, tra gli altri, dell'onorevole Elena Carnevali che ha seguito in aula le fasi dell'approvazione del testo di legge, dell'assessore regionale alla sanità, Luca Barberini, e della responsabile del distretto Alto Chiascio a Narita Comodi. Il dopo di noi, ha spiegato l'onorevole Carnevali, stabilisce la creazione di un fondo per l'assistenza e il sostegno ai disabili privi dell'aiuto della famiglia e agevolazioni per privati, enti e associazioni che decidano di stanziare risorse a loro tutela. Il fondo è compartecipato da regioni, enti locali ed organismi del terzo settore e per esso è prevista una dotazione triennale di 90 milioni di euro per il 2016, 38 milioni per il 2017, 56 per il 2018. Alle regioni il compito di definire i criteri per l'erogazione dei finanziamenti, ma anche l'individuazione dei modi e delle strutture dove potersi prendere cura dei disabili privi di famiglia. Su questo punto l'assessore Barberini ha spiegato che prossimamente la regione dovrà individuare alcune strutture nell'ambito di ciascuna ASL dove poter attuare i principi della legge. Poche nel numero ma ben dislocate che rispondano ad esigenze di territori più vasti. Gualdo Tadino con il sindaco Massimiliano Presciutti sta pensando di candidare a questo scopo le palazzine rosa dell'ex complesso Calai per almeno due ordini di motivi. In primis perché si trovano adiacenti al centro diurno il germoglio che troverà alloggiamento nella porzione storica dell'ex ospedale, quindi perché la legge prevede che il dopo di noi trovi strutture inserite nei centri storici per una maggiore integrazione. Qualora il progetto del comune di Gualdo fosse sposato dalla regione, al Calai potrebbe prendere vita un centro residenziale per disabili senza famiglia strutturato su unità abitative di 5 persone massime per ognuna capace di rispondere alle esigenze di una porzione importante dell'area appenninica.